Il stato attuale del 13 dicembre 2012 abbiamo individuato la settimana, la prima settimana di gennaio, nella quale Elena e io ci chiuderemo dentro una stanza e non ne usciremo se non con il libro finito in mano. Stiamo cercando un editore, abbiamo parecchi interessamenti, ci sono fatti vivi editori grandi, editori piccoli, di ogni genere e di ogni risma. Io confido che nel giro di un paio di mesi questo dettaglio, questo dettaglio si ha risolto. Una volta che avremmo completato la scelta dei testi ci sarà un lavoro di scrittura perché sono scritture spesso piuttosto ingenue e vale appena metterci le mani con il consenso degli interessati. E quindi credo che potremmo annunciare a chi ha partecipato al gioco, chi è stato a vedere, verso marzo, massimo aprile potremmo dire uscirà nella tal epoca, al tal mese, presso il tale editore. Spero solo che non ci voglia una vita per farlo uscire perché comunque i tempi editoriali sono sempre lunghetti, ma vediamo. La cosa molto bella di questo manifesto è che, per esempio, si parla del libro non come si fa normalmente in tutti gli altri ambienti a partire dal bisogno e il profitto dell'editore, ma a partire dall'equa remunerazione del lavoro intellettuale, di chi lo scrive, di chi lo pubblica, di chi lo impagina, di chi lo traduce e così via, che è una prospettiva completamente diversa e secondo me molto molto sana. È anche interessante questo spostamento lessicale per cui non parlano di mercato ma parlano di ecosistema nel quale il libro deve stare insieme con tanti altri mezzi di comunicazione. Un ecosistema sta bene, non colla, non deperisce se c'è un equilibrio costantemente autoregolato. Il mercato ha un equilibrio che è basato sul profitto di uno. L'ecosistema è un equilibrio che è basato sulla convivenza di tutti e questa non è una differenza da poco. La cosa più sana per cominciare alla grande a un anno è leggere un romanzo di riformazione. Il romanzo di riformazione più bello che sia mai stato scritto è secondo me il libro Copperfield di Dickens. È un libro bello grosso, da un sacco di soddisfazione, si piange, si ride, ci sono personaggi meravigliosi. È un capolavoro della letteratura mondiale ed è uno dei libri più popolari che siano mai esistiti.